Come va l'amore di oggi? Come va l'amore di oggi? Come va l'amore di oggi? Come va l'amore. Come va l'amore di oggi? Come va l'amore di oggi? Come va l'amore di oggi? E' una seconda domanda, no? Come va l'amore di oggi? Come va l'amore di oggi? E' una seconda domanda che io devo farmi, i Vescovi devono fare, anche i Preti, tutti. Pasce, Pasqua, vai avanti.